Ciao a tutti ragazzi, sono Enrico12222 ed eccoci finalmente qua dopo tantissimo ma questa volta veramente tanto tempo con un nuovissimo video, siamo su Company of Heroes 2 e innanzitutto spero vi sia piaciuta la intro gentilmente fornita da LOL Gamer che ringrazio tanto e volevo dire che appunto intanto facciamo partire, c'è un nuovo modo di riprodurre i replay comunque una partita giocata con Lucas, io Obercomando West e lui Vermath, adesso poi vedremo comandante scelto e tutto e ho visto che è cambiata l'interfaccia, anche l'interfaccia che fa vedere i replay che non mi sembra affatto male dato che mostra le risorse di tutte le squadre. Ok, detto questo inizio subito con lo scusarmi per ciò che è successo cioè ovviamente che sono rimasto bloccato senza fare niente per un po' di tempo infatti ho avuto dei problemi con il computer che mi si è rotto ma era fortunatamente, dato che era ancora in garanzia non ci ho messo le mani io e l'ho spedito all'assistenza, ci hanno messo un po' però è finalmente tornato e c'è solo un piccolo problema, questo piccolo problema è una cosa che potrebbe dare molto fastidio soprattutto a me lo ha dato e credo anche a tutti quelli di voi che hanno seguito le mie campagne infatti tutte le mie cose non funzionava proprio più quindi non sono neanche riuscito a salvare niente dell'hard disk fare un backup, niente e ho perso tutto e quindi diciamo che siamo a zero comunque avevo una grande proposta da lanciare ovvero mi sto associando, mi sto organizzando con un mio amico che si chiama John Delpo anzi proprio oggi dovremmo iniziare alla realizzazione di una serie su OI3 in cui, su Earth of Iron in cui lui utilizza appunto l'Italia mentre io la Germania e così vediamo di combinare qualcosa mi dispiace molto per la campagna dell'Italia perché mi stavo divertendo un sacco a farlo visto che piaceva abbastanza anche voi e sono desolato e mi scuso veramente tanto ma purtroppo queste cose capitano comunque, tornando al video possiamo notare che io ho scelto operazioni speciali mentre Luca è andato sicuro di fanteria Jagger ho portato inizialmente la mia cuppel wagon qui per fornirgli il supporto e questo per infastidire così il nemico a spottare intanto invece con questa squadra di Strom Pioneer ho cercato un po' di andare addosso a questi ma mi sono dovuto ritirare adesso con i colori così mi vedo un po' strano perché viola vabbè e comunque vediamo la situazione bene adesso lui ha chiamato questo gli stavo accumulando un po' di risorse per chiamare presto gente ecco vediamo che la mia prima squadra di Vosk e Granatieri è arrivata questa è stata una delle mie prime partite rifatte dopo tanto tempo quindi, vedi, un po' di... potrei aver fatto un po' di confusione no, vediamo che ho iniziato con un'altra squadra di Granatieri del Popolo adesso stiamo andando a cappare questo punto ah, comunque adesso non ci saranno più interruzioni il canale è aperto, ma proprio aperto, aperto e non chiuderà più oddio, cosa ho fatto vediamo, aumentiamo un attimo la velocità comunque vediamo che per il momento loro sono loro i blu ma no... vabbè non ci capisco niente, scusate per questa nuova cosa di replay noi siamo i rossi, quindi siamo i cattivi siamo noi i nemici non... boh vabbè, vediamo che loro, i buoni cioè, i blu i cose che dovrebbero essere state giocate da noi ah, forse facendo così no vabbè, comunque a parte questo qui mi sfondano un pochino ma la mia Kupelwagen sfonda e poi dopo arrivano questi qui a cercare di salvare la situazione e ci riescono anche quindi queste unità vanno a posto poi vediamo che Luca ormai ha costruito, diciamo, una salda posizione difensiva in questa zona a questo punto copre questo corridoio mentre questa MG impedisce l'avanzato dal front frontalmente io qua, vediamo che ho costruito il quartiere generale del gruppo di battaglia quello lì, vabbè qui vediamo che gli viene distrutta quella da questa simpaticissima MG e io mi sono piazzato qui con una Kupelwagen e una squadra dei granatieri del popolo e qui ci sono squadre in attesa di reset, diciamo diamo anche un'occhiata ai nostri nemici vediamo i loro comandanti IS2 e ISU comunque ecco, vediamo che io adesso qui avanzo per dare una mano a Luca nella cattura del punto centrale vediamo che per il momento noi possediamo ben due stelle quindi non siamo messi per niente male mi piazzo dietro copertura e ho chiamato questo bellissimo furgone per spottare tutte le unità nemiche poi vado al centro per cappare ma mi sa che dovrei tornare un po' indietro ah, però gli volevo tirare una granata ecco, era questo il mio obiettivo solo che tipo ce n'era una che si stava ricaricando ecco questa qui poi non avevo... no, l'ho tirata alla fine boh, vabbè e comunque questi qui non riescono ad avanzare anche se poveretto quell'uomo rimane lì da solo purtroppo i nemici hanno anche due cecchini e quindi uccidono quell'MG allora io la prendo e la porto via per cercare di salvarla qui vediamo che qua la situazione rimane invariata sempre queste cose e di sotto i nemici non riescono a sfondare quindi diciamo che per il momento stiamo mantenendo la supremazia di sopra ecco, vediamo che qui arrivano le truppe d'assalto io mi sposto sotto qui non faccio in tempo a spostare la macchina vabbè, comunque non hanno decappato totalmente il punto anche se l'avessero fatto non ci sarebbero stati problemi non capisco perché fa vedere i russi come è blu voglio essere io il blu adesso appena capirò come si fa a metterlo a posto eh? cos'è? cambia UDCTRL e freccia sinistra cosa ho fatto? ho bloccato tutto ah è ritornato l'add vecchio addirittura no però proviamoci quello nuovo vediamo adesso che è arrivato un sacco di gente appunto che hanno aggiunto un sacco di cose al gioco io mi sono perso questo periodo del gioco vediamo comunque io qua mi sono equipaggiato adesso con tanta di quella gente che potete ben pensare è difficile tirare giù vediamo che ho costruito due cose difensivi e qua ho piazzato un MG qui ci ho messo dei granatieri a coprirla qua la mia bellissima cuppelwaggen e così tranquillamente qui faccio un'altra cosa e intanto catturiamo la bellissima benzina nemica che non verrà ripresa da loro ho riscoperto questo furgone bellissima avevo voglia di provare questa dottrina sulla quale non mi sono mai specializzato per niente e devo dire che mi è piaciuta veramente tanto vediamo qua adesso delle truppe d'assalto che avanzano ma in vano vediamo come ce la sta cavando il nostro Luca qui con un anticarro che avrà sicuramente fatto danno qui la sua posizione regge benissimo e intanto entrambi stiamo cercando di fare non so con piccole scaramucce cercando di soffiare il centro ai nemici vediamo che io mi avvicino nella speranza di poter tirare giù questo anticarro ma sfortunatamente il nemico lo sposta e i miei uomini vengono danneggiati ecco vediamo che lui con un bellissimo SDFK da una mano adesso qua non succede niente quindi il centro qui sono rimasti questi tre con questi qua vedo ogni tanto dove sono collocati i nemici tutti qui ovunque sono e sicuramente se i nemici sapessero che io è rimasto solo cioè che mi è rimasta così poca roba nella difesa di quel punto avrebbero sicuramente secondo me sferrato un attacco però fortunatamente non l'hanno fatto vediamo che nel frattempo ho costruito qui questa bellissima cosa la come caspita si chiama il coso lì vabbè niente scusate e il quartiere generale dei carri armati pesanti e sto iniziando a produrre i bellissimi Obersoldaten ecco vediamo che la mia MG viene demolita da un colpo di qualcosa io porto indietro questo per sicurezza con questi equipaggiati adesso con Panzerschreck rimango un attimo qui e mi tengo questa posizione purtroppo i nemici hanno decappato la postazione di Luca che però fortunatamente viene riconquistata da questa squadra poi vediamo tentano un attacco ma guardate un po' chi è arrivato non ve l'avevo fatto vedere per sorpresa no stavo scherzando me ne ero completamente dimenticato comunque questi qui dalla distanza sono fenomenali con i bellissimi fucili a infrarossi gli STG44 penso di non averli mai fatti vedere dal mio video praticamente servono per danneggiare dalla distanza le unità nemiche sotto copertura comunque qui vediamo che vengono colpiti da qualcosa e rimane uno solo poveretto e lo porterò indietro comunque ne stavo equipaggiando altre mi sembra si stanno avanzando qui e non appena avrò le munizioni diventeranno anche questi come gli altri ecco vediamo che ora faccio arrivare anche un anticarro perché comunque le mie difese qua stanno in qualche modo crollando purtroppo non riesco ad accorgermi in tempo che l'anticarro nemico stava demolendo la mia macchina questo poveraccio non riesce neanche a fuggire vabbè comunque ora ci sono loro mi hanno rubato un panzer me ne accorgo solo ora con loro diciamo che sono in grado di fermare un esercito faccio gradd'affidamento io su questi guardate che bello qua con tutto il coso infrarosso vediamo cosa ho combinato adesso non mi si rimette più a posto la visuale lo sapevo più o meno era così ecco vediamo che arriva un malefico t34 che colpisce il mio coso e lo distrugge non riesco a portarlo in salvo aspettate un secondo facciamo un attimo il punto della situazione perché sta succedendo un gran casino allora c'è un panzer 4 di Luca al centro che ha sterminato le difese nemiche la postazione qui è stata ripresa e si mantiene la difesa il panzer 4 di Luca viene qui cercando con una abile manovra di mettere al tappeto le squadre nemiche e il mio anticarro avanza per aiutarlo però purtroppo non arriva in tempo infatti il panzer 4 viene gravemente danneggiato e addirittura mi ha dato fuori controllo che disdetta ora comunque vediamo che i blu che dovremmo essere noi ma sono i nemici hanno pochi punti e noi ne abbiamo tanti in poche parole ecco qui vediamo che continuo a colpirlo pesantemente mentre la mia fanteria da dietro massacra ogni unità del nemico ecco questo malefico bombardamento schifoso se me ne accorgevo un millisecondo prima salvavo tutto e qui ovviamente queste unità sono vulnerabilissime contro i carri però riuscirò a danneggiare il cannone principale forse no è fuori controllo è andato giusto io spero di si vediamo no è riuscito a ripararlo quel bastardo vabbè mi piace la nuova visuale non è male per niente vabbè qua comunque mi riprendo tutto quindi loro li lasciamo in poche parole senza benzina mentre Luca al centro comunque sta riuscendo a tenerlo un po' loro un po' nostro quindi li stiamo più o meno concentrando tutti in questa zona qui così non vengono a rompere le scatole qua anche se qui sembra che ce ne siano un po' sì che adesso avanzano ma comunque vengono arrestati dal bunk il nemico ha meno di 200 punti vediamo che qui comunque avanzano arrivano in ogni direzione io adesso vengo qui con queste due squadre rimesse in sesto per cercare di salvare il mortaio però lo ritira comunque saggiamente e questi qui appena mi vedono via scappano che bella sensazione incutere terrore ai nemici ecco vediamo che sono qui però vengono bloccati dal bunker e comunque da questa MG il bunker viene distrutto purtroppo da un anticarro ma l'MG diciamo che riesce comunque a frenare queste unità e però c'è anche un T-34 adesso vediamo un po' come se la cava il nostro Luca però finché il T-34 rimane bloccato e va solo indietro non darà problemi quindi adesso non so vediamo bene magari che succede comunque sono anche qui che attaccano i miei poveri obersoldaten comunque se volete sapere intanto che succede qui qui dovrebbe rimanere tranquillo così guardiamo che fa Luca e qua invece vabbè scappo a un certo punto comunque arriva un P-4 che risolve la situazione e scaccia via tutti perfetto perfetto i P-4 malefici cioè gli ottimi P-4 ecco qui vediamo che metto una mina lì perché io mi diverto a mettere le mine lì così quando ci passano sopra boom qui rimane invariata la situazione ecco vediamo che arriva il mio bellissimo Panther di comando pronto all'azione che si riversa proprio in mezzo al campo di battaglia per far fronte alle unità nemiche e distrugge questo malefico anticarro girandogli attorno spaventandolo e costringendolo quindi il povero uomo sopravvissuto ad abbandonare tutto questo povero uomo verrà ucciso spero sì poi vediamo il mio carro avanza avanza impetuoso verso le unità di Pantheria nemiche che minacciano la posizione di Luca però mi ritiro perché per la troppa Pantheria attorno Satchel 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 adesso vediamo boom hanno preso la mia mina gli ha fatto un po' male ma non troppo comunque ecco qui vediamo che ci sono questi però li faccio andare indietro perché ovviamente da vicino non sono il massimo quindi le truppe d'assalto forse contro le truppe regolari sono anche buone ma contro le truppe d'assalto fanno un po' poco il centro quindi viene decappato da questi barboni mi sembra sì qua manteniamo supremazia benzina e tutto benzina le abbiamo tutte noi perfetto una partita molto bella e vediamo quindi qui il carro armato Panzer IV che viene riparato qui una solida MG che mantiene il controllo della posizione mentre qua rimane sempre invariata la situazione vediamo che il centro purtroppo l'MG è stata costretta a ripiegare per non essere annientata e purtroppo i nostri carissimi nemici riescono in qualche modo a tirare fuori un malefico ISU protetto da un sacco di T-34 perché sono andato a vedere il nemico e quindi spazzano via in 4-4-8 non sono neanche riuscito a farvelo vedere la mia postazione vabbè non è che ci sia stato tanto da vedere quando sono arrivato l'ISU ho ritirato tutti c'erano due unità comunque adesso vediamo che il mio pan e le mie unità adesso poi si prepareranno per fronteggiare il nemico il mio panther di comando viene qui riparato e il mio grande quartiere generale a breve produrrà questo un altro panther vediamo che per ora le nostre forze corazzate si limitano ad un panzer 4 e a un panther mentre il nostro nemico possiede mi sembra ben 4 T-34 e un ISU vediamo 1 2 3 ISU e il quarto non c'è vabbè erano 3 sono comunque abbastanza torniamo comunque sulla mia visuale adesso non ho speso granché perché dai volevo vedere se poi la situazione diventava critica di tirare fuori qualcosa di grosso qui le unità che si stanno rimettendo a posto per poi sferrare una massiccia controffensiva che ci porterà alla ripresa di questo punto comunque la vittoria cioè è imminente per noi adesso smantello anche questo a meno che il nemico sinceramente quell'ISU mi aveva fatto un po' di paura ecco adesso sfornato anche no questo è sempre il comando Luca mi aveva chiesto un attimo un aiuto dato che si era trovato contro tutti questi carri adesso vediamo comunque intanto la stella viene ripresa da me riprendo posizione e tutto adesso arriva ecco vedete qua in basso a sinistra nella minimappa il coso il mio panther comunque aggressivo qui vediamo che arriva l'ISU malefico vado indietro perché cioè vado un po' avanti un po' indietro un po' avanti un po' indietro però mi danneggiano un po' troppo ecco guardate l'ISU e poi era arrivato questo a soffornire il supporto allora cambiamo subito idea via e allora arrivo volevo cercare di prendere questo ma purtroppo non sapevo che avessero tutti quei T-34 pensavo ne avranno uno o due e allora mi si riversa contro tutta sta gente e io dire che faccio provo a scappare però purtroppo la vedevo molto brutta e infatti il mio povero panther è stato danneggiato senza neanche aver commesso chissà quali danni comunque vediamo adesso che la mia fanteria è pronta qui e sta arrivando l'altro il superstite per ripararsi ora possediamo due stelle e il nemico soltanto 30 punti quindi direi che stiamo andando alla grande anche se quell'ISU ci ha messo un pochetto in ginocchio soprattutto scortato da un così grande numero di T-34 e la cosa che mi stupisce è il fatto ecco qui la cosa che mi stupisce di più in assoluto è il fatto che siano riusciti a fare tutta sta roba senza benzina non mi sembra che abbiano costruito ah no si però invece vabbè questo dava 6 al minuto non è che più la base più 7,8,9 al minuto vabbè no un po' di roba ce l'avevo comunque vediamo che la partita è ormai finita io do il GG mi sembra al minimo dai e così si conclude diciamo la nostra riproduzione il primo video della grande ripresa ci saranno molte nuove serie che purtroppo ricominceranno da capo e comunque anche questa lezioferon io sono veramente desolato spero mi perdonerete vi ringrazio per la visione se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace magari iscrivetevi ciao a tutti ad un prossimo video grazie a tutti